Turchia Continuano senza sosta gli scavi nel sito archeologico di Gbeklitepe, il tempio più antico mai portato alla luce. Ci colleghiamo ora con il nostro inviato dalla provincia di Şanlıulfa. La prima vittima di ogni guerra è la verità. Sei davvero disposto a metterti in gioco completamente? A perdere il sonno, la serenità, la reputazione? Tutti hanno un prezzo. Qual è il tuo? Quanto costa mantenere un segreto? La prima vittima di Gbeklite 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 La prima vittima di Gbeklite